Ciao a tutti ragazzuoli, io sono Mario e oggi ragazzi vedremo i cloni di Fortnite come vedete sono già a un ucciso come vedete questo sarebbe il piccone si capisce no? è il piccone ci sono due palletti ma con un'ora di pallare è bello questo è un buonissimo ok ok ce la facciamo io intanto cerco di togliere la mia come se fosse che io non sono mai stato qua ragazzi voi nel tanto lasciate like questo è per forza iscrivetevi al canale e cliccate la campanellina va bene io come faccio ad aiutare la storia ah ci sono tipo quei cose che fanno su Fortnite chi è che mi spagna? sono tutti cecchini cecchinosi un cecchino 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 che c'è eh la madre eh vabbè allora moriamo male iscrivetevi al canale grazie ok ce la facciamo tra l'altro di cui non sono munizioni e devo togliere e io cosa tolgo? il fucino credo e metto la scala ora devo prendere anche la medica facciamo una cosa lasciamo questo nella benda ok diciamo che il metodo per curarsi non è proprio il massimo devo dirlo per forza se no non sono contento raga lo sapete se no non sono contento ragazzi non vi ho detto che che ci sono dei veicoli estremamente belli come vedete questo bellissimo a proposito di youtube iscrivetevi ora grazie e lasciate like per supportarmi grazie wow arriviamo a 20 15 like e ne farò una serie lunga se volete di questo fortnite tra virgolette comunque vedo che qua c'è un niente ovviamente tra l'altro ci sono anche dei bellissimi balletti siamo in 18 4 kg ho fatto solo 4 kg non sono forte vero? ok sono troppo forte devo di solito questo succede solo c'è ogni 100 anni perché ogni volta che gioco a questi tipi di giochi come avete visto nel video di free fire non ho tanta fortuna non ho tanta fortuna non ho tanta fortuna ed è per questo che è forse la vinciamo sta partita forse se eeeh c'è pure il fed ci sta eeeh grande ferra 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 che è vabbè ogni volta che si ribatte eeeh eeeh è indistru... non so guidare sono bloccato bene e vai avanti vabbè però fai schifo però c'è pure il carburante che io non lo sapevo tra l'altro fa anche freddo come vi ho detto la fortuna 300 anni perché adesso io devo farmi mentre cammina oh finalmente dopo tanti anni dopo cento anni che sono già invecchiato siamo dal nostro carburante qualcuno vuole favore mi dica dove sta dove posso fare il carburante per favore grazie mamma mia fratello ok ma dove siamo ok sono entrato nella zona sicura dopo tantissimo tempo oh no oh no oh no nooo come sempre come su fortuna esatto esatto ugualissimo ok dovrei imparare dovrei imparare a come non andare nella safe tra l'altro tra l'altro fa freddo come non so che cosa quanto fa freddo guidiamo come se fosse che non abbiamo fatto niente guidiamo ok la zona sicura si distingue a poco bene devo curarmi perché ho deciso di fare parte di un gioco se poi so che non che non che non so curare che non so come si gioca perché e perché io sì bello beh almeno qualcosa da sai fare qualcosina eh non chissà cosa perché certamente come sempre fortuna nera più o meno sotto una nera devo dire più o meno ah è vicino a me che freddo perché sono e alieni sto aspettando comunque a che cosa serve quella borsa là ok granate non ho sti cosi non ne ho ho un cubetto un cubo droni vabbè ho cambiato ho cambiato il visuale dai dai che brutto ho cambiato il visuale cosa fa a cambiare il visuale lo apro subito facciamo in pace possiamo fare la pace mentre tu non hai voluto vai via che sta facendo ah si sta curando come praticamente su fortnite come sanno tutti oh non è pronta su cosa aiutami oh sono 4 rimasti forse facciamo la vita reale forse non si sa ragazzi ragazzi non immaginate quanti cubi ho ho 1116 cubi è la prima partita che faccio giuro giù su qualsiasi altra cosa al mondo sei veramente brutta ok il cavolo ti si sta vivendo come non vai e io mi sto scontrando come non vai e basta scontrarsi ci si non posso dire che non sono ok devo curarmi adesso pronto soccorso pronto soccorso scelgo te ok ho detto una ok ho detto una cosa stupida l'avevo immaginato come è impossibile non dire le cose stupide siamo fatti in tre siamo solo in due showdown ragazzi non dire le cose stupide non è così io sono in mezzo quindi allora allora voglio costruire un muro muro davanti a me un altro muro così poi qua dove è uscire? ci è? come ci è? come vittoria? come vittoria? mio dio ok ragazzi io direi di concludere qua fatemi sapere nei commenti se volete altri video non ci credo comunque se fosse stato così vi inviterei a lasciare un bel like e ci vediamo a un prossimo video ciao ragazzi ciao ciao